Buon pomeriggio a tutti e bentornati qui sul mio canale, iscrivetevi mi raccomando se ancora non l'aveste fatto e lasciate un mi piace al video se sarà di vostro gradimento. Ora è ufficiale, Yannick Sinner è guarito dalla tonsillite ed è pronto a tornare in campo, più precisamente segnatevi la data del 6 agosto perché il numero 1 del mondo andrà in scena nell'ATP 1000 di Montreal in Canada per difendere il titolo conquistato nella passata stagione. Dal 6 al 12 di agosto quindi Yannick Sinner torna in campo pronto a scaldare i motori, pronto a rispondere sul campo come piace fare a lui alle polemiche che l'hanno accompagnato dopo l'esclusione dalle Olimpiadi e che dire non vedo l'ora e non vediamo penso tutti l'ora di vedere Sinner all'opera. Anche perché si tratta di un Master 1000, un torneo dove l'anno scorso Sinner ha vinto sì in finale contro Deminaur ma un torneo che non va sottovalutato. Sinner sulla carta parte nettamente favorita anche perché la stragrande maggioranza dei tennisti saranno e sono impegnati alle Olimpiadi. Ci sarà chi ci arriva magari con un carico di stanchezza maggiore rispetto al solito perché comunque giocare le Olimpiadi non è mai la stessa cosa. Quindi non possiamo nascondere che Sinner sotto un certo punto di vista parta favorito sia per comunque un valore sul campo che è insindacabile. Insomma Sinner sappiamo essere tra i primissimi atleti al mondo e anche appunto perché dopo questa tonsillite Sinner sicuramente avrà tanta voglia di rivalsa, tanta voglia di giocare a tennis e noi non vediamo l'ora di seguire le sue geste. Quindi ripeto 6 agosto si parte io tra l'altro dovrei essere anche in ferie quindi ci sono buone possibilità di fare delle belle dirette delle sue partite sperando che di poterne fare il più possibile sino alla finale orario permettendo perché adesso col fuso orario del Canada non so a che ora saranno in programma le partite però dai vedremo di fare il possibile come sempre. Oltre a questo Sinner molto probabilmente andrà in scena anche nella settimana successiva si insinnati per un altro Master 1000, un altro torneo dove Sinner vorrà dare il massimo ma soprattutto prepararsi perché gli US Open sono sempre più vicini, manca poco al quarto slam dell'anno che si gioca sul veloce in una superficie dove Sinner ha pochi rivali se non nessuno quindi insomma ci sono i presupposti per assistere a un proseguo di stagione veramente molto molto interessante. Però non corriamo troppo concentriamoci intanto su appunto il 1000 in terra canadese con Darren Cahill che ha dato l'annuncio lui stesso sul proprio profilo Instagram Sinner è guarito, Sinner è pronto. Ora già mi immagino chi dirà è già guarito sono appena gli ottavi delle Olimpiadi eccetera eccetera non ascoltiamoli piccolo inciso noi concentriamoci intanto su Sinner perché è giusto incitare e seguire il nostro numero uno del mondo ma anche complimentiamoci con Lorenzo Musetti che è rimasto l'unico portacolori azzurro nel singolare maschile quest'oggi ha vinto abbastanza agevolmente il proprio match contro l'argentino Navone e quindi ha strappato il pass per gli ottavi di finale quindi risultato prestigioso per un Musetti che dopo la semifinale a Wimbledon sta ottenendo degli ottimi risultati, finale a Dumago, ottavi di finale qui alle Olimpiadi. Ora però il livello sale l'avversario di quelli ostici è l'americano Taylor Fritz giocatore che non era molto a vezzo alla terra rossa ma ultimamente è cresciuto molto quindi non sarà un match semplice per Musetti però non dimentichiamo che proprio i quarti a Wimbledon nel match tra i due Lorenzo Musetti ha avuto la meglio è vero era sull'erba era un'altra superficie però Fritz avrà voglia di vendetta di rivalcia ma Musetti sa bene come si batte l'americano per andare a caccia di un quarto di finale che sarebbe veramente prestigiosissimo per Musetti e soprattutto vorrebbe dire essere a un passo dalla semifinale che coincide con la certezza di andare a giocarsi poi una partita per la medaglia una finale del terzo quarto posto o la finale per primo o secondo posto. Per Musetti come abbiamo già detto in altri video arrivare a mio modo di vedere in semifinale quindi con la possibilità di giocarsi una medaglia sarebbe già un risultato stratosferico un risultato da 10 in pagella. Quindi forza Lorenzo ora c'è Fritz non è impossibile però chiaramente è una partita molto ostica. Non dimentichiamo Jasmine Paolini che mentre sto girando e registrando il video è impegnata al terzo set contro la Slovacca Scemedova scusate se la pronuncia non è perfetta e quindi insomma se non sbaglio sono 4-3 per la Paolini o comunque sono in parità nel terzo set Quindi speriamo in bene che Jasmine possa proseguire in questa rassegna e farci emozionare e regalarci un sogno non è semplice perché comunque per quanto la Paolini su questa terra a Parigi ha già conquistato a Roland Garros la finale poi persa contro Igas Biontech È sempre un match ostico quello delle Olimpiadi è un match da non sottovalutare. Parentesi e complimenti anche ad Andrea Vavasori e a Sara Errani che hanno battuto in maniera netta la coppia russa formata da Andrea Ewa e Medvedev per me è un po' sorpresa poi erano dati favoriti anche dalle quote Perché comunque la coppia russa non è così bene assortita entrambi hanno diciamo altre mire nel singolare quindi molto bene per Sara Errani e Vavasori L'Errani sarà impegnata anche più tardi con Jasmine Paolini nel doppio Vavasori invece è uscito nel singolare ieri contro Casper Rudd dopo aver vinto il primo set Quindi a testa altissimo Andrea però ha perso con Bolelli all'esordio contro la coppia spagnola formata da Carreño Busta e Granollers Quindi diciamo è una grande opportunità per la coppia azzurra nel misto sarebbe veramente eccezionale portare a casa una medaglia in questa specialità Quindi ricapitolando abbiamo alle Olimpiadi degli Azzurri che sono ancora in corsa e possono ancora regalarci qualche emozione Non sarà semplice portare a casa una medaglia le speranze maggiori sono riposte in Jasmine Paolini però spero di non dover terminare questo video e vedere magari un risultato negativo Chiaramente staremo a vedere però soprattutto la notizia quella più importante di oggi è che appunto Yannick Sinner è tornato Yannick Sinner sta bene la notizia più bella e soprattutto Yannick Sinner è pronto a scendere in campo nel Master 1000 canadese E credo che sarà e vedremo un Sinner nonostante il suo charme nonostante il suo atteggiamento sempre tranquillo sempre comunque pacato Ma credo che sarà un Sinner molto più determinato molto più carico rispetto a quello visto a Wimbledon Non che a Wimbledon abbia preso sotto gamba l'impegno perché secondo me è dato tutto e per me su questo canale l'ho sempre detto Perdere contro Daniel Medvedev non è mai un fallimento per me Medvedev è un giocatore che metto al pari di Alcaraz e Sinner Poi può essere più incostante può essere più brutto da vedere ma stiamo parlando di un vincitore slam Stiamo parlando di un giocatore che arriva comunque sempre lì quarti semifinali finali insomma Non si può dire che perdere contro Medvedev sia un'onta o sia un risultato negativo Perdere contro Medvedev ci sta sempre così come perdere contro Alcaraz Poi chiaramente una volta vinci tu una volta vinco io ci può stare però ripeto ci sono dei tennisti che sono al top E quindi come in altri sport quando ci si confronta con i migliori il risultato è incerto Ed è anche il bello di questa disciplina perché altrimenti se il risultato fosse sempre scontato Che diciamo vince sempre uno vince sempre l'altro ci annoieremo Quindi ad oggi sicuramente c'è più imprevedibilità lo dimostrano i risultati degli slam Prima unito da Sinner poi doppietta di Alcaraz a Roland Garros e Wimbledon Ora vedremo gli US Open se Yannick riuscirà a pareggiare i conti Sarebbe un qualcosa di magico per poi magari andare alle finals e fare diciamo uno spareggione Però non dimentichiamo che ad oggi Yannick Sinner rimane il numero uno del mondo E in terra canadese Sinner deve difendere i mille punti vinti l'anno scorso Quindi non bisogna nascondersi l'obiettivo è quello di arrivare in fondo e vincere Credo che Sinner ne abbia tutte le possibilità poi non è mai un obbligo Però siamo carichi Quindi come ho detto ricordo di iscrivervi lasciare un mi piace Noi ci vediamo sempre su questo canale per nuovi video di aggiornamento Per quanto riguarda olimpiadi e l'avvicinamento di Sinner al Canadian Open Manca poco tanto tennis tanto sport quello che ci piace E io non posso fare altro che ringraziarvi per essere sempre qui sintonizzati Grazie anche per i commenti che avete lasciato sotto i doppio video che ho fatto ieri Sia quello inerente alle olimpiadi e sia quello inerente a Nadal per la questione ritiro Gli ho letti tutti, li leggo sempre tutti, a volte non rispondo, mi metto sempre un cuore, un mi piace Perché comunque veramente grazie per i vostri spunti, le vostre commenti, le vostre disamine Sono preziose e mai scontate Quindi veramente un grazie di cuore a tutti e vi auguro come sempre una buona serata Ciao a tutti